Buongiorno a tutti, tanto tempo che non faccio un video da solo, solitamente sul canale pubblico interviste a Don Francesco Ricossa, negli ultimi tempi anche a Carlo Di Pietro e all'amico Mauro Stenico, tutti e due amici in realtà, sono due persone straordinarie che ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare, estremamente preparate e anche molto disponibili perché anche per fare i video, insomma bisogna organizzarsi, ci va del tempo, ma siamo ben felici tutti di farlo. Oggi ho deciso di fare questo video da solo perché voglio chiedervi un qualcosa, io non ho mai chiesto niente a nessuno per ciò che faccio, lo faccio da anni, lo facevo prima attraverso un blog, non ho mai chiesto niente a nessuno, ma oggi sono a chiedervi qualcosa perché viviamo tempi molto molto difficili, veramente molto difficili e si è rivolta a me una persona con grande umiltà, ma anche con grande coraggio devo dire, che mi ha chiesto di darle una mano, una mano quantomeno a diffondere un appello perché è in situazioni economiche poco belle diciamo, c'è un po' di difficoltà e magari mi ha chiesto se potevo lanciare un appello per raccogliere un po' di fondi, io mi sono subito reso disponibile e ho promesso anche che avrei fatto questo appello in video, infatti lo sto facendo, in realtà avrei dovuto farlo prima circa una ventina di giorni fa, poi per varie situazioni, insomma mi sono ridotto a farlo oggi, quindi che cosa vi chiedo? Vi chiedo di dare un vostro contributo, una donazione attraverso questa mail che compare sotto, in realtà in questo momento è che lascio che cos'è questa mail? In realtà attraverso questa mail chi ha Paypal può fare un versamento, una donazione attraverso Paypal, chi invece non ha Paypal può scrivere sempre a questa mail chiedendo in quale altro modo è possibile fare questa donazione. Io vi ringrazio per quello che farete, per la carità cristiana che dimostrate, perché come diceva Gesù ciò che fate ad altri, agli altri è come se lo faceste a me. In questo momento non possiamo non avere carità cristiana, in realtà la carità è un concetto molto molto più vasto, ma rientra anche questo, rientra anche la carità materiale. E come diceva San Paolo, forse è la più difficile, ma anche la più importante delle virtù. Quindi vi chiedo un piccolo sforzo e che Dio ve ne renda merito. Grazie per quello che farete e ci vediamo magari o ci sentiamo in altri video. Questo è un periodo in cui sto pubblicando un po' di più, perché il momento è veramente particolare e noi cattolici, perché è cattolico, non possiamo assolutamente nasconderci, né possiamo essere tiepidi, né possiamo scendere a compromessi. Quindi facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire la voce della parola di Dio attraverso di noi. Grazie ancora e alla prossima!